ciao a tutti ragazzi e benvenuti su questo nuovo video un nuovo video true crime il caso di cui parleremo oggi è quello di okubo kiyoshi ragazzi prima di iniziare con questo caso e voglio ringraziare come sempre tantissimo per i commenti che mi lasciate sotto i video mi fanno sempre molto piacere e sono sempre molto contento di sentire la vostra opinione il caso di oggi è davvero terrificante avvenuto nel 1971 io ragazzi come sempre vi ringrazio per aver scelto di vedere questo video e se volete sopportare questo canale non dimenticatevi di iscrivervi e lasciare un mi piace ma adesso iniziamo con questa storia okubo kiyoshi è nato il 17 gennaio del 1935 nella città di kawasaki nella prefettura di gomma e ragazzi questa prefettura è subito sopra tokyo cioè c'è saitama e subito sopra c'è la prefettura di gomma gomma è anche famosa per essere il luogo che ha dato origine alla leggenda del daruma non so se voi avete mai visto questa bambola chiamata daruma che praticamente è questa bambola che spesso viene associata a quel proverbio che fa così cadi sette volte rialzati otto il daruma è anche una di queste bambole che viene usata anche per il gioco del 1 2 3 stella in giappone si dice darumaga coronda la bambola di daruma è caduta e se voi quando dite è caduta è coronda non vi siete fermati come 1 2 3 stella perderete il gioco la particolarità di questo daruma è che gli occhi di questa bambola in realtà quando voi la comprate sono completamente bianchi e sarete voi a disegnarne le pupille ne disegnerete una nera appena avete acquistato questa bambola e nel momento in cui la riponete nella vostra casa dovete esprimere un desiderio se questo desiderio si dovesse realizzare solo in quel momento disegnerete anche l'altra pupilla questa è una piccola leggenda che ho voluto inserire in questo video perché mi ha sempre affascinato e scopriremo come questa storia avrà anche un'importanza all'interno di questo caso kiyoshi era nato in una famiglia piuttosto ordinaria e aveva ben 9 altri fratelli 5 altre sorelle e 4 fratelli lui era il secondo genito di questa famiglia la sua nonna era una artista russa e per questo motivo questo ragazzo con un po come tutti i suoi altri fratelli erano considerati dei quarter che significa un quarto perché erano un quarto stranieri appunto la madre aveva sposato il padre di okubo in giovane età e alcuni dicono anche che sarà sposata quando era ancora una bambina anche se questa voce non è mai stata confermata quindi ragazzi prendete questa notizia un filino con le pinze alla nascita di kiyoshi il padre lavorava assieme al fratello per le ferrovie giapponesi e il padre era conosciuto in quest'area per essere un don giovanni e tra l'altro il padre di okubo sembra che fosse andato un pochino con tutte le belle ragazze che vivevano vicino alla loro dimora e sembra pure che si facesse queste ragazze davanti agli occhi dei figli e tra l'altro questa è una storia piuttosto triste perché benché questo uomo aveva questi comportamenti per nulla onorevoli sembra che la moglie dal momento che era lui l'uomo che portava a casa lo stipendio e questa è ancora veramente una ragazza giovanissima quando si è sposata doveva comunque accettare questi comportamenti di questo suo marito l'anno in cui tuttavia kiyoshi è nato questo suo fratello purtroppo è venuto a mancare per via di una malattia infettiva la madre in ogni caso amava tantissimo suo figlio kiyoshi tanto che ha scelto proprio questo nome nome kiyoshi significa proprio puro santo diciamo nel 1941 kiyoshi è entrato all'elementari purtroppo per via un pochino del suo sangue misto era spesso preso di mira da parte degli altri studenti purtroppo in giappone essere di sangue misto in quegli anni non era particolarmente ben visto in realtà ancora oggi ci sono delle persone che purtroppo hanno queste ideologie assolutamente sbagliate che vanno contro la società però dovete sapere che il 1941 il giappone stava entrando in un secondo conflitto mondiale di via poco e in quel momento c'era proprio questa immagine del giappone come un paese potente essere puri di sangue giapponese era motivo di vanto mentre le persone dal sangue misto erano considerate come inferiori kiyoshi non era diciamo uno studente modello forse un po' perché veniva preso di mira però sembrava che non avesse alcun interesse nello studio le sue performance a scuola erano erano piuttosto scadenti e anche il fatto che la sua situazione familiare non era sicuramente delle migliori ha inciso sui suoi risultati e in giappone essere dei buoni studenti significa anche avere una vita sociale e comunque è più facile stringere amicizia con gli altri studenti non c'è quell'immagine del ragazzo secchione che tutti prendono di mira anzi assolutamente se siete dei ragazzi che vanno bene a scuola sarà molto più facile che sarete invidiati o anzi accogare quindi ammirati dagli altri studenti che molto probabilmente vorranno diventare vostri amici purtroppo questo kiyoshi nel sesto anno di elementari perché in giappone ci sono sei anni di elementari ci sono state una serie di situazioni che hanno veramente avuto una forte ripercussione sullo stato mentale di questo ragazzino nel 1946 infatti questo kiyoshi ha portato una ragazza in questo campo di grano e dovete sapere che quello che ha fatto è stato prendere delle pietre e inserirle nelle parti intime di questa sua compagna di classe che appunto ancora frequentava le elementari i genitori di questa povera ragazza sono andati subito a lamentarsi dai genitori di kiyoshi ma la madre ha subito detto loro che in realtà il suo bambino non era nemmeno mai stato in quel campo di grano tuttavia quando la bambina si è recata nella loro casa e ha detto che ha subito questi trattamenti da questo kiyoshi la madre lo ha difeso dicendo che probabilmente quello che kiyoshi stava facendo era semplicemente imitare quello che il padre faceva a altre donne che però non c'era nulla di male stava solo giocando era solo un bambino purtroppo scopriremo a breve che questo non era un gioco innocente io mi sarei già allarmato se sapessi che mio figlio si comporta in questo modo ma in ogni caso andremo a vedere adesso l'oscura piega che questa storia andrà a prendere durante gli anni delle medie kiyoshi aiutava spesso il suo padre con il suo business nel mercato nero quindi potete capire come comunque avere un padre del genere come diciamo figura paterna che siete consci che si sta comportando in modo sbagliato che sta agendo illegalmente sicuramente non può avere una cattiva influenza sulla vostra crescita io ragazzi non sto assolutamente dicendo che questo può giustificare poi i crimini di cui questo uomo andrà a macchiarsi però in ogni caso almeno ci dà la possibilità di comprendere un pochino magari quello che era nella mente di questo uomo terminate le scuole medie kiyoshi ha iniziato a frequentare le scuole superiori tuttavia ben presto le ha lasciate durante quegli anni ha anche iniziato a lavorare in un'attività agricola un business tutto suo lasciato questo lavoro il 17enne kiyoshi ha trovato un nuovo impiego presso un negozio di elettronica nel distretto di tabashi a tokyo e mentre lavorava in questo negozio ha iniziato a spiare le donne che andavano in bagno quando ovviamente il suo datore di lavoro lo ha scoperto lo ha subito licenziato la sorella sentita questa storia ha provato un po' pena per lui e quindi ha scelto di assumerla nel suo negozio lei infatti possedeva un negozio di elettronica nella città di Yokohama e la sorella ha anche insistito perché kiyoshi iniziasse a frequentare una scuola professionale tuttavia kiyoshi aveva iniziato a importunare delle ragazze e tra l'altro sembrava che avesse un pessimo rapporto anche con gli insegnanti assolutamente non voleva stare ad alcune regole si rifiutava di studiare e molto spesso marinava la scuola e per questo motivo è stato espulso in giappone in molte scuole soprattutto quelle professionali c'è veramente è veramente importante tenere una percentuale di presenza almeno dell'85-90% dipende da istituto a istituto però la shusekirizu se scende sotto un determinata percentuale verrete automaticamente espulsi e questo sembra proprio quello che è successo a questo kiyoshi nel 1953 kiyoshi è tornato a casa dove ha scelto di aprire un suo proprio negozio di radio chiamato Seiko Kisokai i genitori lo accolsero e permisero al ragazzo di aprire questa sua attività nella casa propria di famiglia e benché hanno cercato di aiutarlo anche economicamente questa sua attività è purtroppo fallita molto presto il problema è che kiyoshi aveva aperto questo negozio per riparare delle radio ma non ne aveva le competenze per poterle riparare dal momento che non riusciva a riparare queste radio kiyoshi aveva trovato una nuova soluzione quella di rubarle quindi praticamente lui andava nei negozi si recava e faceva shoplifting quindi rubava delle radio che poi avrebbe potuto dare ai suoi clienti spacciandole come radio riparate durante il giugno del 1953 fino al gennaio dell'anno successivo dovete sapere che questo kiyoshi è stato portato alla centrale di polizia ben otto volte proprio per aver fatto shoplifting ogni volta che questo ragazzo comunque si era recato in prigione c'era sempre il padre pronto a pagarne la cauzione e quindi non era mai stato realmente incarcerato per più di una notte o due il padre per poter pagare queste enormi cifre tuttavia si era quasi indebitato però voleva assolutamente che suo figlio evitasse la galera le cifre però erano così cospicue che hanno costretto comunque il padre a non poter sopportare più l'attività del figlio e per questo motivo il negozio è fallito a soli due anni dopo questo episodio nel 1955 il desiderio di kiyoshi per le donne si faceva sempre più intenso tanto da diventare quasi un'ossessione per lui il sesso opposto il 12 di giugno indossò quest'uniforme nera che era tipica degli studenti universitari e iniziò a discutere con questa ragazza di 17 anni che era di izasaki la discussione era piacevole e i due continuavano a parlare magari di loro film preferiti di fare hiking e svariati altri argomenti tant'è che i due si sedettero su questa panchina per continuare la loro discussione tuttavia un tratto kiyoshi le ha coperto la faccia e ha compiuto una violenza carnale kiyoshi quando è tornato a casa ha parlato con il suo padre e quando gli ha detto perché si è comportato in questo modo lui ha detto che non ha fatto nulla di male che solamente le donne non sono buone e che si meritano questo trattamento la polizia è comunque riuscita a risalire a kiyoshi e lo ha arrestato per aver assalito questa ragazza dal momento che però questa era la prima volta che kiyoshi era stato arrestato per questa tipologia di crimine fu condannato solamente a un anno di reclusione che non dovette nemmeno scontare nella sua interezza infatti dopo solo sei mesi fu liberato dalla galera il 26 dicembre del 1955 ancora una volta l'uomo ha tentato di assalire un'altra ragazza questo tentativo però non ebbe successo e la ragazza riuscì a sfuggire e andare dalla polizia kiyoshi è stato nuovamente arrestato e condannato per tre anni e mezzo il comportamento di kiyoshi che ebbe all'interno di questa prigione era stato proprio quello di un detenuto modello era riuscito a far credere a tutti i poliziotti e tutte le guardie che era un uomo cambiato e un uomo pronto a riaffrontare la società e che non avrebbe mai più assunto quei brutti comportamenti che aveva in passato e per questo motivo la sua pena fu ridotta e il 15 dicembre del 1959 era di nuovo un uomo libero scontando di fatto solamente due anni di galera e immaginatevi che cos'è successo di lì a poco infatti a soli pochi mesi di distanza dal suo rilascio il 16 di aprile purtroppo l'uomo è ricaduto nuovamente nei suoi vecchi vizi finse di essere un attivista del Zengakuran la Zengakuran altro non era che una organizzazione studentessa politica proprio di quegli anni spesso organizzavano delle proteste, delle marce e hanno presentato assolutamente un'opportunità per questo kiyoshi di attirare nuove vittime la sua nuova vittima infatti altro non era che un attivista di questa organizzazione kiyoshi riuscì a convincerla a andare a casa sua tuttavia ancora una volta il suo piano non andò a buon fine infatti i genitori sentirono le grida di questa ragazza e fermarono kiyoshi prima che potesse concludere con questa ragazza la famiglia ancora una volta si prese cura di questo kiyoshi e riuscì a mettersi d'accordo con i genitori di questa ragazza per evitare che sporgessero denuncia ancora una volta hanno versato una grossa somma di denaro e sono riusciti a far stare queste persone zitte io posso capire l'amore magari di alcuni genitori per il proprio figlio però comportarsi in questo modo hanno forse in qualche modo fatto sì che questo kiyoshi continuasse con questo suo comportamento assolutamente non dignitoso, assolutamente spregevole postiamoci adesso al 1961 kiyoshi notò questa ragazza ventenne di nome Shibata Hiroko in una libreria era una cliente regolare l'ossessione di kiyoshi lo portò più volte a entrare in questa libreria per poter rincontrare questa ragazza di nome Hiroko un giorno riuscì finalmente a iniziare una discussione con questa ragazza kiyoshi invitò questa ragazza a prendersi un caffè con lui ma ella rifiutò kiyoshi non prese bene questo rifiuto e continuò in più occasioni a incrociarla a volte in una libreria, a volte sulla strada finché ogni volta la sua domanda era viene a prenderti un caffè con me alla lunga i due uscirono assieme e andarono a prendersi un caffè durante questo loro appuntamento i due parlarono di svariati argomenti tra cui vacanze in montagna piuttosto che posti interessanti da vedere i loro cibi preferiti eccetera eccetera ma tutto ad un tratto kiyoshi chiese a questa Hiroko di sposarlo benché kiyoshi l'ha pedinata per un determinato lasso di tempo in realtà questa Hiroko di fatto era la prima volta che uscivano quindi immaginatevi siete al primo appuntamento e un ragazzo vi chiede di sposarlo assolutamente penso che nella mente di molti di noi scatterebbe un allarme tuttavia la ragazza, magari erano anni diversi ha scelto di accettare la proposta di questo uomo e i due si sposarono la ragazza però ha chiesto a questo uomo di non frequentarsi con lei in pubblico ma di incontrarsi per lo più a casa i due quindi quando uscivano fuori per degli appuntamenti portavano sempre con loro degli altri amici le nozze furono celebrate nel 1962 la loro relazione iniziò gradualmente all'inizio i due solamente si stringevano la mano prima di trasformarsi in qualcosa di più benché erano sposati molti di voi magari in questo momento si staranno chiedendo ma com'è possibile che una donna così rispettata comunque che veniva da una buona famiglia eccetera eccetera ha scelto di uscire con un uomo del genere e in sua difesa molto probabilmente lei non aveva assolutamente idea di chi fosse questo uomo di quale fosse il suo passato di come si era comportato in precedenza con altre donne di per sé Hiroko ha scelto di sposare un perfetto sconosciuto l'uomo infatti si era presentato per giunta sotto mentite spoglie e aveva utilizzato il nome di Sato Kyoji le aveva anche detto che frequentava il college e non le ha mai detto nulla del suo passato qui vorrei aprire una piccola parentesi per quanto riguarda gli studenti universitari in Giappone studiare in Giappone, fare il college in quegli anni era proprio un lusso e anche sinonimo di intelligenza e possibilità di carriera molto illustri perché era particolarmente costoso studiare e non diffuso cioè è stato proprio in quegli anni che sono iniziati gli studenti universitari quindi anche quando vi ho detto che in passato si era presentato con l'uniforme scolastica questo uniforme nera era proprio l'uniforme che ti contraddistingueva dalla massa e che ti faceva spiccare perché significava che essere uno studente poteva permettersi un percorso universitario significava essere parte dell'elite quindi molto probabilmente provenivate da una famiglia illustre o perlomeno eravate estremamente intelligenti e tutto ciò vi ha permesso di fare l'università quando tuttavia la moglie riuscì finalmente a scoprire il suo vero nome era sotto shock e rimase in silenzio non poteva capire perché questo uomo le avesse mentito sul suo vero nome l'uomo Kiyoshi tuttavia non ha dato alcuna spiegazione e ha continuato a mentire sulla sua vera identità magari non sul nome ma sicuramente su qual era il suo passato il loro matrimonio andrà avanti per un altro anno e nel loro secondo anno di matrimonio venne alla luce il loro primo genito è stato proprio in questo momento che Kiyoshi ha scelto di intraprendere un percorso come poeta e tra l'altro arrivò persino a pubblicare il suo primo poema la sua prima raccolta di poesie che raccoglieva appunto 22 sue creazioni il nome che aveva utilizzato come poeta era quello di Tanigawa Ikaze nel 1964 Kiyoshi ha nuovamente cercato di aprire un negozio questa volta di alimentari all'interno della loro casa sembrava proprio che questo Kiyoshi non riuscisse mai a fare nulla di sua iniziativa perché anche qui ancora una volta c'era l'aiuto della famiglia della ragazza benché diciamo le premesse erano le stesse del suo negozio in passato inizialmente l'uomo per i suoi standard si era veramente impegnato e stava lavorando estremamente sodo per poter portare dei profitti tuttavia ben presto questi soldi non erano abbastanza per lui e iniziò a svolgere delle attività illegali per il partito comunista Kiyoshi iniziò a inventarsi una serie di bugie e addirittura si era inventato che lavorava sotto copertura per il partito comunista giapponese in realtà non era vero quello che in realtà lo rifaceva era inventarsi queste scuse per uscire di casa e tradire la propria moglie Kiyoshi continuava ripetutamente a tradire la propria moglie e questo suo comportamento continuò anche dopo il 1965 quando la sua moglie Hiroko ebbe la loro seconda genita e tra l'altro nel giugno di quell'anno ebbe una reazione assolutamente spropositata quando un cliente, una persona che si era recata all'interno del suo negozio tentò di rubare una bottiglia d'acqua l'uomo si era arrabbiato così tanto che ha subito chiesto un rimborsio alla famiglia per tutto il disagio che aveva recato all'interno del negozio e quello che aveva dovuto subire e considerando tutte le volte che Kiyoshi era stato sorpreso shoplifting è incredibile come avesse avuto questa reazione così spropositata Kiyoshi è arrivato addirittura a chiamare la famiglia di questo ragazzo chiedendo un ulteriore risarcimento pari a 17.000 yen per tutto il disagio che questo ladro ha creato all'interno del loro negozio i genitori di questo ragazzo tuttavia non volevano avere nulla a che fare con questo uomo e non volevano ricadere nei suoi ricatti e anzi andarono alla polizia a denunciarlo perché questo comunque si tratta di estorsione e per questo motivo appunto fu incarcerato nuovamente questa volta è stato condannato a un anno in galera e tre anni di probation la moglie Kiroko ha iniziato un pochino ad indagare sul passato di questo Kiyoshi e ha scoperto tutte le volte che era stato condannato e incarcerato in passato Kiroko ha quindi scelto di divorziare da questo marito ma in qualche modo Kiyoshi è riuscita a convincerla a rimanere tuttavia il ragazzino quello che aveva tentato di rubare quella bottiglia ha iniziato a spargere voci su chi fosse questo uomo in realtà e su quello che aveva subito anche la famiglia si fece portavoce di tutte queste malelingue cioè malelingue in realtà si tratta della verità però potete capire come se questo Kiyoshi ha un negozio in un posto magari neanche in una grande città in una città piuttosto rurale potete immaginare come queste voci possono veramente compromettere la reputazione di un negozio portando la famiglia di Kiyoshi in bancarotta la cosa strana è che benché appunto il suo negozio era completamente fallito Kiyoshi ha scelto di diciamo farsi un regalo e si è fatto fare un prestito alla banca per comprare una nuova vettura inoltre aveva iniziato a indossare questo cappello e portava sempre con sé le sue creazioni, le sue poesie questo faceva tutta parte del nuovo look con il quale questo Kiyoshi si presentava per poter diciamo far breccia nei cuori di nuove possibili sue vittime e il 23 dicembre del 1966 alle 5.40 l'uomo ha iniziato una conversazione con una ragazza di 16 anni Kiyoshi ha offerto a questa giovane di riaccompagnarla in macchina a casa tuttavia una volta che la ragazza è salita a bordo Kiyoshi l'ha portata in questo luogo abbandonato e ha poi purtroppo violato il suo corpo l'anno successivo il 24 febbraio del 1967 incontrò questa ragazza ventenne che in realtà conosceva già in passato sempre nella città di Takasaki e ancora una volta offri a questa ragazza di riaccompagnarla a casa questa ragazza dal momento che già conosceva Kiyoshi accettò il suo invito ancora una volta tuttavia la riportò in questo luogo abbandonato che era vicino a un fiume e ancora una volta approfittò di questa nuova vittima tuttavia c'era una grande differenza con questa ragazza questa ragazza sapeva esattamente chi era questo uomo e quindi per Kiyoshi non c'era via di fuga e appunto fu nuovamente condannato a tre anni di reclusione dal momento che questo crimine tuttavia era successo negli anni ancora di Prohibition per quell'episodio di estorsione di cui abbiamo parlato poco fa la sua pena è stata estesa da tre anni a quattro anni e mezzo Kiyoshi però sapeva bene come comportarsi in prigione e ancora una volta era riuscito a dimostrarsi o a fingere di essere un detenuto modello addirittura il direttore della prigione gli ha conferito quattro medaglie per il suo comportamento onorevole all'interno di questa struttura so che questa storia fa veramente arrabbiare a ripensarci cioè il fatto come questo uomo sia riuscito a manipolare tutte queste persone e riuscire a convincerle che fosse cambiato è veramente terribile durante questo periodo in cui l'uomo era in prigione la moglie ha finalmente preso la decisione di lasciare per sempre questo marito e ha concluso le trattative per il divorzio ha preso i bambini e è tornata a vivere nella sua città natale e benché questo sembra una vittoria se vogliamo da un altro punto di vista immaginatevi questa madre che doveva spiegare ai propri figli dove si trovava il loro padre e perché avesse preso la decisione di lasciarlo per sempre il 2 marzo del 1971 il 36 anni Kiyoshi era nuovamente un uomo libero quando uscì di prigione tuttavia scoprì finalmente che la sua famiglia non c'era più non sapeva dove si fosse recata ma invece di sentirsi diciamo triste era come se si sentisse sollevato perché era come se questa famiglia lo tirasse indietro quindi la bestia che aveva dentro di lui era come in qualche modo repressa ma nel momento in cui adesso lui era un uomo libero non aveva più diciamo dei bambini da badare o una moglie era come se adesso potesse essere completamente se stesso e quindi comportarsi nel peggiore dei modi aveva dentro di sé anche un profondo odio nei confronti della polizia Kiyoshi nuovamente senza soldi chiese ai suoi genitori un prestito per poter aprire una nuova attività assicurò i genitori che questo suo nuovo business avrebbe fruttato un sacco di soldi i genitori ancora una volta credettero al loro figlio e lo aiutarono anche in questa situazione Kiyoshi tuttavia prese questi soldi e non li utilizzò per aprire il suo business ma bensì per comprarsi una nuova automobile la vettura che comprò era una vettura sportiva e nella sua mente pensava che quest'auto lo avrebbe aiutato a poter attrarre nuove donne tutto ciò non era abbastanza per creare la sua nuova identità aveva bisogno di una set di pittura per poter completare il suo look d'artista era convinto che questa sua nuova identità che si stava costruendo perché possiamo vedere come nella sua mente, nella sua vita ha cambiato più volte personalità si è reinventato e ogni volta che questo uomo si reinventava lo faceva per poter conquistare nuove ragazze questa è proprio una di quelle cose che mi spaventa il modo in cui questa persona appunto ancora una volta già aveva premeditato in che modo si sarebbe potuto muovere avrebbe potuto agire per poter manipolare nuove vittime e farle cadere nelle sue grinfie questa volta puntando sul fascino dell'artista, del pittore pensate addirittura a qual era il suo piano il suo piano era quello di spacciarsi per un insegnante di pittura infatti lasciava all'interno della sua auto, nei sedili posteriori appunto tutto questo kit per poter dipingere aveva bisogno di modelle che avrebbero posato per lui durante tutto questo periodo in cui appunto Kyoshi cercava queste ragazze era anche tornato più volte a casa della sua moglie o per meglio dire ex moglie Hiroko cercando in più occasioni di riallacciare i rapporti con lei ovviamente e giustamente Hiroko non ne voleva più sapere di questo Kyoshi tuttavia Kyoshi riuscì ad avere un appuntamento con una 17enne studentessa di nome Tsuda Miyako mentre erano all'interno della vettura Miyako trovò la carta di identità di Kyoshi e subito si rese conto che Kyoshi le aveva mentito sull'età Miyako ha subito detto a Kyoshi che era a conoscenza di questa bugia e che il suo fratello lavorava per il governo e quindi Kyoshi doveva stare molto attento a questa ragazza sentite queste parole Kyoshi si arrabbiò moltissimo e strangolò purtroppo questa ragazza fino a farle perdere la vita Kyoshi prese il corpo senza vita di questa Miyako e la seppellì nella foresta successivamente incontrò un'altra ragazza di 17 anni una cameriera di Takasaki i due ebbero due appuntamenti ma al secondo appuntamento questo Kyoshi tentò di assalirla la ragazza mentì a questo uomo dicendo che era sposata e che suo marito faceva il poliziotto e che lo avrebbe arrestato come potete immaginare questa esclamazione fece andare su tutte le furie Kyoshi e questa ragazza andrò incontro allo stesso destino di Miyako successivamente incontrò una ragazza di 19 anni che lavorava in un vecchio ufficio di nome Ida Cieco i due si frequentarono per ben 5 appuntamenti ma al quinto appuntamento Kyoshi assalì anche questa ragazza quello che era successo in questo fatidico quinto appuntamento era che la ragazza aveva scoperto il vero nome di questo uomo e in parte anche il suo passato dal momento che Kyoshi era estremamente preoccupato del fatto che magari la polizia sarebbe potuta risalire a lui a Miyako e a questa cameriera e per questo motivo durante questo quinto appuntamento l'uomo ancora una volta attaccò questa ragazza con cui si stava frequentando e le strappò la vita il corpo ancora una volta fu sepolto nella foresta e pensate che questo uomo soltanto un giorno dopo che aveva seppellito questa donna esattamente il 18 aprile uscì con una ragazza di 17 anni di nome Kawabata Seiko ancora una volta l'uomo aveva provato ad assalirla e questa ragazza in un disperato tentativo di difendersi ha detto all'uomo che il suo padre faceva il poliziotto e che avrebbe arrestato Kyoshi se avesse scoperto che l'aveva aggredita potete immaginare che fine ha fatto anche questa povera ragazza una settimana dopo il 27 aprile incontrò una nuova ragazza questa volta delle superiori di nome Saito Akemi anche la vita di questa ragazza purtroppo è stata strappata in circostanze simili a quella di Seiko anche questa ragazza aveva provato a difendersi dicendo che suo padre era un poliziotto tuttavia questo è stato proprio ciò che probabilmente l'ha portata a questa fine così tragica successivamente ha incontrato una ragazza di 18 anni di nome Kabaho Kazuyo e il 3 maggio i due uscirono per un secondo appuntamento Kazuyo lavorava per i PON Telegram & Telephone Public Corporation e durante questo secondo appuntamento questa ragazza sembrava come non credere alle parole di Kyoshi sembrava come se non si fidasse di quello che quest'uomo le stava dicendo perché alcuni piccoli elementi non avevano alcun senso questo è stato ciò che ha portato l'uomo a scegliere di strappare la vita anche a questa povera ragazza il 10 maggio del 1971 Takimura Mitsuho ha telefonato alla polizia per denunciare la scomparsa della sorella appunto questa ragazza Kazuho questa ragazza ha detto che Reiko, la sua sorella non era più tornata a casa la sorella di Reiko ha descritto in filo e per segno come era vestita la ragazza ha chiesto se c'erano stati degli incidenti magari nell'area di Mitropa perché un comportamento come questo non era assolutamente da lei non era assolutamente da lei non tornare a casa e non far sapere a nessuno dove si trovasse Mitsuho non riusciva a darsi pace e non riusciva veramente a capire dove potesse essere la sorella Reiko non riusciva assolutamente a darsi pace ha perlustrato lei stessa in macchina assieme ai genitori nella speranza di potersi riabbracciare con la sua sorella è stato proprio in quel momento che Mitsuho si è ricordata che Reiko le aveva detto che avrebbe posato da modella per un'artista per un professore di pittura la famiglia era contraria e non voleva che Reiko posasse come modella tuttavia Reiko quella sera precedente aveva preso la sua bicicletta e si era recata in questo studio questo studio, almeno si pensava che questo studio si trovasse nei pressi di una banca la sorella è andata a vedere nei dintorni della banca per vedere se ancora c'era questa bicicletta della sorella con sua sorpresa questa ragazza ha trovato la bicicletta di questa ragazza appunto parcheggiata di fronte a questa banca la sua prima reazione era quella di rimanere lì e vedere che cosa sarebbe successo di lì a poco la ragazza rimase davanti a quella banca per ben tre ore e tutto un tratto un uomo si avvicinò a questa bicicletta e con un panno iniziò a pulirla la ragazza immaginatevi lo shock che ha provato perché immaginatevi essere davanti a questa stazione di pulizia vostra sorella è scomparsa e la sera prima era uscita appunto con quella bicicletta voi vi ritrovate davanti a questa banca dove c'è la bicicletta parcheggiata lì di fronte e un uomo da un tratto viene lì a pulirla la ragazza era sicuro che questo uomo stesse diciamo occultando determinate prove e era assolutamente convinta che questa figura che scopriremo in seguito essere proprio Kiyoshi fosse il responsabile della scomparsa della sorella appunto Reiko si avvicinò all'uomo e chiese con una voce calma se questa fosse la sua bicicletta l'uomo sembrava essere estremamente preoccupato e si era reso conto che magari questa ragazza potesse sapere qualcosa quindi terrorizzato ha risposto alla ragazza solamente che si era sbagliato che probabilmente quella non era la sua bicicletta e rapidamente l'uomo salì di nuovo a bordo della sua vettura e si direguò la ragazza però molto furbamente memorizzò il modello di vettura che questo uomo stava guidando e anche dei numeri della targa con queste informazioni andò la polizia e cercò di individuare chi fosse il proprietario di quella vettura la polizia scoprì ben presto che il proprietario di quell'auto altro non era che Okubo Kiyoshi e subito i poliziotti si recavano a casa di Kiyoshi per fargli delle domande quando arrivarono nella sua abitazione tuttavia non trovarono l'uomo chiesero ai suoi genitori dove si potesse trovare ma anche loro non ne avevano assolutamente idea scopriremo poi in seguito che ancora una volta i genitori di questo Kiyoshi hanno cercato di proteggerlo in realtà sapevano benissimo dove si trovava questo Kiyoshi e questa è una cosa che veramente mi spaventa il grado in cui questi genitori hanno cercato di proteggerlo mettendo a ripentaglio la vita di così tante ragazze perché i genitori io non posso credere che non sapessero che tipologia di uomo fosse il loro figlio cioè hanno avuto tantissimi precedenti perché non hanno cercato di fermarlo questa è una cosa che veramente mi fa arrabbiare e sono sicuro che fa arrabbiare molti di voi la polizia andò anche a casa di Hiroko nella speranza di poter ritrovare Kiyoshi tuttavia Kiyoshi non si trovava a casa della moglie e la ex moglie ha detto ai poliziotti che più volte le era capitato di rivedere Kiyoshi che era venuto più volte a casa sua per richiederla indietro per poterli allacciare i rapporti in totale ben 11 volte questo uomo si era ricatto nella sua dimora ma che da marzo dal 3 marzo di quell'anno non l'aveva più rivisto e non aveva assolutamente idea di dove Kiyoshi si potesse trovare in quel momento Reiko chiese aiuto al fratello che servendosi di una serie di amici un totale di 50 persone si sono tutti messi alla ricerca della vettura di Kiyoshi la ricerca andò avanti per svariate ore e alle 11 di sera di quella notte riuscirono a rintracciare la location di questa automobile che era parcheggiata davanti a un benzinaio Kiyoshi si era subito reso conto che qualcosa non andava e che lo stavano pedinando e per questo motivo ha iniziato a guidare in modo sfrenato fino a riuscire a depistare i suoi inseguitori il 12 di maggio tuttavia la polizia ha iniziato un inseguimento e a ricercare questo uomo servendosi addirittura di 70 vetture per riuscirlo a rintracciare e finalmente il 13 di maggio sono riusciti ad acchiapparlo ma dal momento che non c'erano abbastanza prove la polizia non ha potuto trattenerlo solamente due giorni più tardi fortunatamente una delle vittime che ha subito una violenza carnale si è fatta avanti e ha denunciato questo Kiyoshi l'uomo è stato nuovamente condotto alla polizia per aver appunto con l'accusa di aver abusato di questa donna e Kiyoshi successivamente ha ammesso di aver aggredito questa ragazza e qua la storia si fa veramente culpa perché la polizia aveva capito che questo uomo era il colpevole e che molte persone, molte ragazze che avevano un profilo piuttosto simile che erano scomparsi in quella zona molto probabilmente erano state vittime di questo uomo di questo Kiyoshi inizialmente Kiyoshi aveva negato tutto ad eccezione di quella vittima che era ancora viva e si era fatta avanti ma la polizia è riuscita a farsi dare una confessione anche utilizzando delle poesie facevano leggere praticamente queste poesie a Kiyoshi per poter instaurare una specie di connessione con questo uomo e permettergli di esprimere le proprie emozioni questo è un po' quello che ho trovato su il giornale appunto Asagi Shinbun c'era proprio un discorso molto lungo che parlava di questo legame che questo Kiyoshi aveva con la poesia e era un modo anche per poter entrare all'interno della sua psiche in qualche modo Kiyoshi pian piano ha iniziato a confessare tutti i suoi crimini e dove erano sepolte le sue varie vittime ci sono voluti ben 80 giorni ma la polizia è riuscita a ritrovare tutti i corpi che questo uomo aveva violato e aveva poi seppellito quasi tutti all'interno di questo bosco non lontano dalla situazione di polizia l'investigazione e l'interrogatorio durò moltissimi giorni e fu veramente difficile riuscire ad avere una confessione e delle informazioni dettagliate su dove avesse seppellito questi corpi per esempio la polizia ha iniziato comunque per lustrare l'intera zona per riuscire a ritrovare magari un qualche corpo un qualche indizio anche la sua vettura all'interno della vettura hanno infatti trovato anche una fotografia di una delle ragazze che era scomparsa ma quando le hanno presentato la foto all'uomo l'uomo ha detto che non ne sapeva nulla che in realtà era solo una forma di ribellione nei confronti della società e della polizia ma che in realtà lui non aveva mai incontrato questa ragazza non capisco la connessione tra la sua dichiarazione e la fotografia ma questa è stata la sua reazione alla vista di questa foto la polizia aveva capito che per potersi far dare queste determinate informazioni aveva bisogno di starare una relazione con questo Kyoshi e per questo l'intero interrogatorio fu affidato a un solo investigatore che appunto cercò di assecondarlo in qualche modo l'uomo arrivò a dire che avrebbe confessato tutti i suoi crimini solo se la polizia avesse accettato sette sue condizioni le condizioni non sono mai state rivelate al pubblico tuttavia posso dirvi che l'investigatore che era capo di questo interrogatorio ha rifiutato categoricamente tutte e sette queste sue condizioni dicendo che erano troppo egoistiche dopo che nessuna delle sue richieste è stata accolta Kyoshi ha un filino cambiato il suo atteggiamento cercando di essere un pochino più empatico se vogliamo in qualche modo l'investigatore ha subito notato questo cambio di comportamento e per questo motivo si è presentato davanti con delle poesie che aveva scritto lui dicendo che in realtà questo investigatore e questo uomo erano allo stesso livello che tutti e due avevano questa vena artistica e che quindi potevano in qualche modo connettersi è stato grazie a questo stratagemmo utilizzato da questo investigatore che la polizia è riuscita a avere informazioni per quanto riguarda il luogo dove era stato seppellito il corpo di Kawabata Saiko tuttavia dopo che è stato ritrovato questo corpo il comportamento di Kyoshi è cambiato nuovamente e ancora una volta non voleva in qualche modo collaborare con la polizia la sua condizione però per ritrovare il corpo di altre vittime era che fosse condotto anche lui dove erano stati sepolti gli altri cadaveri la polizia consentì a questa sua condizione ma quando portarono l'uomo nel bosco l'uomo sembrava non ricordarsi più dove aveva seppellito questi corpi la polizia pensò che magari un trasferimento di prigione lo avrebbe aiutato magari a ritrovare la memoria in questa nuova prigione dove lui era stato condotto era praticamente l'unico detenuto ed era sempre in isolamento Kyoshi ha iniziato a essere quasi in panico non riusciva assolutamente a rimanere da solo e per questo motivo ha iniziato mano a mano a confessare dove si trovavano gli altri corpi è stato così ritrovato il corpo di Akemi, Kazuyo e Miyako oltre a quello della 21enne Naoko tra l'altro la polizia ha scoperto che questo Kyoshi ha assalito questa Naoko proprio il giorno in cui la sorella appunto di Reiko ha riportato alla polizia le informazioni su questo uomo quindi capite che meno male che questa Reiko è riuscita in qualche modo a fermarlo perché altrimenti molto probabilmente questo uomo sarebbe andato avanti ancora per anni e anni a fare tutte queste vittime la relazione con Naoko è stata forse tra le più longeve per i suoi standard dal momento che si sono incontrati per ben sette volte e il motivo per cui questa relazione si è conclusa e Kyoshi l'ha poi in seguito aggredita fino a strapparle la vita è stato perché al loro settimo appuntamento questa ragazza si era accorta e aveva scoperto che questo uomo in realtà era stato impassato in galera e questo lo ha fatto andare su tutte le furie sulla base di tutte queste prove e ritrovamenti di tutti questi cadaveri la polizia era finalmente pronta per aprire il processo e condannare per sempre questo uomo il processo iniziò il 25 ottobre del 1971 e dal momento che comunque Kyoshi aveva già confessato tutti questi crimini più che un vero tentativo di scoprire che cosa era successo era più un modo per poter ricostruire una specie di diciamo linea temporale su quando e come erano successi tutti i fatti un professore universitario di Tokyo ha condotto una valutazione psichiatrica di Kyoshi e quello che hanno concluso è che il comportamento di questo Kyoshi era dovuto a un disordine della personalità anormale e appunto definendolo uno psicopatico tra l'altro questo processo è stato lungo e terribile il suo avvocato ha cercato in varie occasioni di far sì che questo Kyoshi si scusasse almeno con le famiglie delle vittime ma in tutto questo processo Kyoshi non si è mai e poi mai scusato anzi addirittura durante questo processo aveva quasi questo comportamento strafrottente dicendo che tanto avrebbe avuto la pena di morte e quindi ha utilizzato questo suo tempo e questa attenzione che aveva all'interno di questo processo per poter diciamo denigrare ancora il sistema legislativo giapponese e soprattutto la polizia nipponica il 22 febbraio del 1973 Kyoshi è stato condannato alla pena di morte per impiccagione Kyoshi non ha mai fatto ricorso tuttavia durante il suo tempo all'interno del braccio della morte è riuscito a pubblicare una delle sue poesie l'esecuzione di Kyoshi è avvenuta il 22 gennaio del 1976 l'uomo al momento dell'esecuzione aveva solo 41 anni la polizia ipotizza che Kyoshi avesse assalito ben 150 persone anche se molte di loro sono rimaste in silenzio e di loro non sappiamo nulla non sappiamo nemmeno se alle famiglie che appunto hanno subito questi lutti hanno ricevuto una qualche forma di risarcimento questo era il caso di oggi un caso molto lungo, triste e veramente ingiusto che mi ha particolarmente scioccato io spero davvero di essere riuscito a raccontarvi questa storia al meglio è una storia veramente triste speriamo che casi del genere non succedano mai più io vi ringrazio per aver scelto di vedere questo video e spero di vedervi al prossimo un saluto da Seba ciao 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 ciao